Il Premier Conte ha detto in serato che è tempo di responsabilità e non di polemiche a proposito del coronavirus, ma Salvini da questo orecchio non ci vuole sentire e oggi ha detto che al Governo ci sono degli incapaci, ecco cosa succede a chi tiene le frontiere aperte. Secondo lei come si sta comportando il Governo? Il Governo si sta comportando bene e in fasi come queste occorre davvero mettere da parte tutte le polemiche dei partiti. Salvini sceglie la strada della irresponsabilità, però questa non è faccenda da populisti, questa non è faccenda dove fare un post per prendere qualche like su Facebook. Questa è una roba seria, non bisogna avere atteggiamenti di psicosi, non bisogna avere atteggiamenti di sottovalutazione, bisogna seguire i dottori, non gli apprendisti stregoni e da questo punto di vista l'Italia ha il massimo della scienza, cioè lo Spallanzani, i vari istituti, i vari dottori sono veramente il top, il non plus ultra. La questione è complessa, complicata, va gestita con grande intelligenza, ma mai soffiare sul fuoco delle paure. Salvini sta citofonando agli italiani, esprimendo tutte le paure e le preoccupazioni su una cosa su cui invece occorre buonsenso. Grazie.